Salcio di punizione a nostro favore, batte Mata, prende Michele, 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 traversa, traversa di Michele, bravo Michele, Michele Daniello con il numero 16. Signora cambio, occhio così, Simone vicino a Michele, guarda Michele, fai la linea a tre, vieni a fianco, Michele, gestisci Simone, di sinistro, il suo piede preferito, ha colpito il legno della tabella, guarda la linea a tre, così, bravo, ok, dietro c'hai Bartolo.